Coce, le attivanti non mancano come le prestazioni dell'Under 17, però bisogna essere onesti, questa sera non una grande Tecmania battipaglia. Il risultato è importante perché sono due lunghi, perché erano partiti a casa, perché finalmente al palazzetto si iniziano a vedere anni dei lunghi. E' una cosa bella, però dall'altra parte mi piace guidare bene e stasera siamo stati dall'anima a scuola di guardia.